Giovani, buongiorno e ben ritrovati nuovamente sul canale di Napolis 1926 per prima cosa iscriviti al canale, è gratis Signori, parliamo un attimo di un argomento serio perché io sento molti tifosi napoletani in questo momento dire, ah, la Conference League è uno schifo cosa ci andiamo a fare in Conference League è la coppa degli scarti europei, sono tutte squadrette io vorrei dire una cosa a questi tifosi ma perché snobbare la Conference League? qualora il Napoli ci dovesse andare, perché poi bisogna dire anche questo ragazzi perché non è detto che il Napoli vada in Conference League anzi, se la Fiorentina perde e poi vince lo scontro diretto con l'Atalanta ti potrebbe passare avanti quindi ci sono tante cose da qui a fine stagione ragazzi ancora clamorose da dire allora, naturalmente voglio sapere la vostra qui sotto nei commenti perché dovete snobbare questa benedetta Conference League? io vi ricordo una cosa al Napoli, al Napoli un trofeo europeo lo portò a Maradona contate un po' quanti anni sono passati dall'ultimo trofeo europeo vabbò quindi quando io sento dire, ah, la Conference League è da snobbare ma per cosa è da snobbare? è comunque una Coppa europea è comunque una Coppa che potrebbe andare a arricchire la tua bagheca visto che non vinci tutti gli anni un trofeo e questo lo dobbiamo dire questo lo dobbiamo dire perché molti pensano che il Napoli magicamente dopo l'anno scorso è diventato il Real Madrid che ogni anno vince un trofeo questo lo dobbiamo dire e lo dobbiamo anche ammettere anzi, addirittura sarebbe meglio arrivare all'ottavo posto per non andare a farti il preliminare di Coppa Italia che la giocheresti ad agosto se non sbaglio, una cosa del genere quindi, quindi, Waiu andiamoci con i piedi di piombo, vi prego perché snobbare una Coppa come la Conference League siamo diventati altolocati siamo diventati gente borghese siamo diventati perché, Waiu dai, non veniamo a fare sciocchezza noi, il primo anno di Serie A quando c'entravamo l'Inter Toto tutti quanti, Napoli ben figlia, se non sbaglio all'andata si vinse 3-1 o 3-2 ma non mi ricordo, con gol di Vitale addirittura se la memoria non mi inganna quindi pensate a quanti anni sono passati poi il ritorno lo perdemmo in modo clamoroso, quell'Inter Toto ecco, noi eravamo felici e non lo sapevamo la cosa bella è quella che noi eravamo felici e non lo sapevamo quest'anno che è la possibilità comunque di andarti a giocare una Conference League sempre se ci va in Conference League Waiu, perché poi bisogna dire pure questo se ci va in Conference League è un trofeo da portare a casa è un trofeo che puoi sfruttare per far giocare anche giocatori che non faresti giocare in Serie A nelle partite dei gironi perché poi naturalmente Napoli dovrebbe essere nella prima lista nel famoso POT 1 ci dovrebbe essere il Napoli e quindi naturalmente puoi prendere squadre più scarse, no? però ecco la Fiorentina l'anno scorso è andata vicinissima a vincerla a pochi minuti dai supplementati quest'anno rischia di andarsi a giocare l'ennesima finale di Conference League e poter portare a casa un trofeo europeo ma boh, la Roma la vinse la Conference League e la festeggiano io senti molti una... ah, festeggiano la Coppa del Nonno ma... la Coppa del Nonno sto cazzo Waiu, scusatemi la parola ma ha voglia di vincere Conference League ogni anno Europa League non ti dico vincere le Champions League perché naturalmente in Europa ci sono squadre più attrezzate delle squadre italiane questo lo dobbiamo anche ammettere perché se te la vai a giocare contro il City contro il Real Madrid che speranze hai? diciamoci la verità questo lo dobbiamo pure ammettere però ecco vedo tifosi napoletani ah, la Conference League io non me la guarderò nemmeno la Conference League però poi se il Napoli va a giocarsi la fase eliminatoria arriva in semifinale in finale è stato tutto un coppo stadio andate tutti a tifare ma boh quindi fate un attimo passi con il cervello e mettiamo le cose in chiave se il Napoli dovesse andare in Conference League è comunque una competizione europea e va rispettata ma boh detto questo io quando sento dire ho sentito parlare del genio ieri sera e ho detto ah, questo Napoli deve dare via 7-8 giocatori e fare una rivoluzione se Aurelio De Laurenti se è contento dell'ottavo non lo posto sconfermi la squadra che ha ora ma per puntare alla Champions League servono 7-8 giocatori nuovi io poi mi sono fatto due domande e ho detto ma chi cazzo sono questi giocatori da vendere? chi sono questi 7-8 giocatori da vendere? perché poi bisogna pure ammetterlo questi 7-8 giocatori come fai a piazzare 7-8 giocatori? noi a fatica ne piazziamo due o tre a sessione di mercato ma boh se non in prestito ma dove li vuoi piazzare questi giocatori? caro del genio dove li vuoi mettere? dobbiamo rivoluzionare come fa la rivoluzione se tu vai a giocarti la Conference League? e già stai svalutando i giocatori l'Instorm ragazzi prendete l'esempio di l'Instorm o di Ngong che erano giocatori in Ngong che secondo me non era nemmeno da prendere perché il prossimo anno ti trovi in difficoltà perché c'hai quella fascia di là che è piena zeppa di giocatori e non sai cosa fare perché tu a quel punto non vai più a modificare l'attacco ma vai a modificare solo la prima punta del Napoli ma boh perché tu vai a modificare solo la prima punta gli esterni ce li hai gli esterni saranno quelli nella prossima stagione puoi cambiare a centrocampo perché Zelischi va via Zelischi va via Dentocker va via Traore va via vanno via quei giocatori che hai preso quest'anno in prestito ma poi c'hai Anghissà Lobotka Foloruscio c'hai Gaetano che ritorna ce li hai giocatori a centrocampo quindi come fai a dire 7-8 giocatori da cambiare questo è un mio pallino poi ditemi voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate ma 7-8 giocatori in questo momento del Napoli non li puoi cambiare mi dispiace ma 7-8 giocatori non li puoi cambiare perché è impossibile andare a cambiare 7-8 giocatori io sento la difesa è tutta da rifare ma boh e chi dai via Ostigard che ragazzi Ostigard fino a che l'anno scorso c'era Spalletti ha sempre fatto bene Nathan che quando ha giocato ha sempre fatto bene e questo lo dobbiamo dire due partite avrà sbagliato in tutto l'arco della stagione quelle poche che ha giocato le ha giocate bene Oliveira Oliveira e Nacimo a chi lo sapeva io Oliveira non era nemmeno da acquistare secondo me Mario Rui non riesce a darti continuità perché anche lui è vecchio c'è Mazzocchi Mazzocchi che è stato uno dei migliori quando c'è stato Mazzari è stato uno dei migliori messo in campo sempre dato il massimo non ha più visto il campo perché dobbiamo far giocare Mario Rui e Oliveira e non Mazzocchi questa è una cosa che io non me la riesco a spiegare perché Mazzocchi ragazzi in questo momento storico poteva dare molto di più rispetto a un Oliveira e un Mario Rui anche se non giocava su quella fascia lì però poteva darti grandi soddisfazioni Mazzocchi e questa è una cosa che io ce l'ho sempre in mente perché Mazzocchi poteva fare qualcosa in più anche a livello difensivo ti poteva dare qualcosa pur si prenderà la salernitana perché io ce l'ho la salernitana Mazzocchi c'ha più cazzima di tutti quelli messi in campo se proprio le vogliamo parlare di questa cosa poi Nathan lo dai via non si sa lo dai in prestito l'investimento c'è stato su Nathan e che fa dopo un anno te lo vedi significa che l'ero di Laurenti si ha sbagliato tutto dovrà mettere le sue colpe a questo punto no dall'altro lato c'è Zanoli che ritorna dal prestito dalla salernitana quello lo puoi dare via ma chi te lo compra Zanoli lo dirà in prestito alla salernitana per la serie B non si sa Di Lorenzo rimane non rimane ci sono squadre inglesi sul giocatore non lo sappiamo Meretta ha chiesto lui la cessione comunque che ha preso il rinnovo in automatico per la partita con la Roma perché ha fatto le presenze con il Napoli nella passata stagione più questo e più quello e quindi Meretta lo vuoi vendere importa chi ci tieni visto che non hai voluto riscattare i collini porti Caprile Caprile gioca all'embole Caprile le ha fatte le parate mi ha fatto pure tanti strunzate Caprile quindi prima di dire bisogna cambiare sette otto giocatori in questa rosa e io dati alla mano ditemi chi riesce a vendere e chi riesce a piazzare va forza perché a parlare è facile però poi ci vogliono i fatti e di fatti questa squadra non li sa fare i fatti e questo lo dobbiamo pure dire perché questa squadra i fatti non li sa fare cosa dovevano fare in queste ultime giornate vincerle vincerle almeno almeno provare a fare tre vittorie di fila in Napoli sono cinque partite da non vince cinque il grande miglioramento che dice Cazzone che c'è stato il miglioramento lo vorrei vedere questo miglioramento e io lo ribadisco devi ringraziare Mazzari che almeno ha trovato la preparazione atletica fatta tu pensa che Mazzari è venuto i giocatori non avevano nemmeno la preparazione atletica visto che il grande Garzia si è portato via tutte le tabelle dei giocatori a dimostrazione che non ha fatto nessuna nessuna preparazione atletica su questi giocatori quindi non mi venite a dire le stronzate mi prego e ribadisco ribadisco trovatemi voi sette otto giocatori che riuscirete a piazzare dopo questa stagione disastrosa aspetto qui voi nei commenti noi comunque ci vediamo più tardi nel post partita della partita tra Paris Saint Germain e Borussia Dortmund speriamo passi il Paris Saint Germain e sinceramente secondo me se il Paris Saint Germain non è in finale secondo me chi sta a izanacop la butto lì